Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Nickwingame Riprendiamo da dove ce l'avamo lasciati Ovviamente sono a corto di munizione, questo è un problema Cazzo Occhio al cecchino Porca miseria Datemi qualcosa please Niente Salve Sì potremmo avere più possibilità Andiamo insieme Il diavolo è questo Ah sì Grazie La La Ci siamo riforniti Alla grande Allora Dobbiamo sistemare il cecchino Ok Una bella granata qua ragazzi Morto? Sì Qui c'è gente Lo so Eccoli Ok Ok Porca puttana Bisogna usare la maniera ai forti Non Ok Cdoes Quello ci spara Chi è Ma come non è morto E sali Eh purtroppo l'elicottero Elicottero per modo di dire Non possiamo Abbatterlo da qua Alla prossima Madonna ma in quanti sono Finiti No Cazzo Ti prego Kit Voglio anche questo Vabbè dai andiamo Individuate Lacerazione Cazzo cazzo Che bastardi Cazzo cazzo Grazie a tutti. Orca puttana. Curiamoci va. Aspettate. Ok. Ma che cazzo è successo? Cioè mi stava esplorando addosso. C'è qualcosa che non... Avanti il prossimo. C'è qualcosa che cazzo. C'è qualcosa che cazzo. C'è qualcosa qua di interessante? C'è qualcosa che cazzo è successo. Energia ripristinata. Ah, meglio di niente, dai. Energia ripristinata. 30%. Strano. Ok. Cazzo. 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 Ok, missione 0-9, ricevuto. Abbiamo dei litri. Ma vaffanculo. Piazzo di merda. Sono io. Eh, scusi. Eh, andiamo. Ah, allora ricordavo bene. Sì, sì, sì. Quella porta si apre, ma me la apre lui. Ok, la coprirò. Però cammina. Ok. Ok. Oh cazzo Merda Merda Come al solito porca di quella puttana Veramente No vabbè Perdiamo ancora più vista Se possiamo Hai capito? Dimenticati di Freeman Stiamo abbandonando la base Se hai qualche ultimo bersaglio da bombardare Segnalo sulla mappa tattica Altrimenti levati assolutamente di lì Ripeto Ci stiamo ritirando Dacci bersaglio Trovate un riparo Eh Ecco È arrivato Ci ha messo un po' eh Ma è arrivato ragazzi Mi sa che me lo sono spratto in testa Vado un po' a occhio Dovrei buttare giù quel traliccio In teoria Ok Ok Abbattiamo il muro Un po' più in qua E dai Ok E abbattiamo anche quel pannello Quel portone Proviamo così E' andata? Sì È il tipo Se non mi disturba Possiamo anche lasciarlo stare Tanto Non dovrebbe inseguirci eh Dimenticatevi di freemare E che cazzo sta succedendo? Stiamo ritirando per ridurre le perdite Chiunque sia rimasto la sua adesso è da solo Ripeto Se già non lo è di prima Ora sei da solo Che cazzo sta succedendo? Che cazzo attiva? L'ho attivata io la torre Perda Che cazzo sta succedendo? Ah Che cazzo sta succedendo? Allora Allora Che cazzo sta succedendo? E muori Gesù santo Ma si spacca? Però sono veramente bastardi Allora Converrebbe Ok, lui è andato Ok Ok Che cazzo era sta cosa Merda Cazzo Sette fuori Sette fuori Sì. Eh io non ho capito se devo passare Per di qua. Ah. I vuoti di memoria ragazzi. Presumo di sì ma. Questo non lo ricordo. Non lo ricordo. Beccarne almeno uno. Beccarne almeno uno. Eh ma qua sopra che cazzo ci sta? C'è veramente che odio che sono sti cazzo di bagaruzzi. Orca. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Ok. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Eh mi sa proprio che devo tornare dov'ero prima eh. Sto perdendo un sacco di tempo ma... Sto perdendo un sacco di tempo ma... Secondo me sì. Altrimenti non avrebbe senso questo caricamento non avrebbe senso questa parte. se riesco a lanciarmi qua. Ah vedete che fa sì 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 sì. Ok. 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 No sali sali! Cazzo fai sali! Non stai ragazzi Non ci credo che c'è il pesce qua C'è veramente Ma che due palle Blocchiamoci anche Se possiamo Non avevo più munizioni di revolver Ecco perché Ecco C'è un po' E basta con questi lag C'è un po' Un po' C'è 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 un po' Un po' C'è 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 un po' Non credo Siano finiti C'è un po' Ma cazzo lo ha batto quello C'è un po' 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 Ok Reattore Lambda Bene ragazzi Visto che abbiamo raggiunto il reattore O comunque siamo vicini A raggiungere il reattore Per teletrasportarci Nel mondo alieno Quindi non manca Neanche tantissimo Ai titoli di coda ragazzi Siamo lì lì Forse un altro paio di episodi Dipende da come mi organizzerò Ragazzi comunque Ci filmiamo qui con questo episodio A voi come sempre fatemi spiegare la vostra Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale Sempre se vi fa piacere E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti